Va ora in onda a spazio libero i programmi dell'accesso. L'ospite di oggi a spazio libero è il centro informazione sui diritti della donna. Una organizzazione nata per opera di un gruppo di donne nel 1983 con lo scopo di analizzare la legislazione vigente in tema di diritti femminili e potere quindi individuare le eventuali discriminazioni della donna. L'associazione dichiara di volere soprattutto supplire ad una carenza istituzionale che ogni giorno viene confermata dal pessimo funzionamento dei consultori familiari i quali posti dalla legge a sussidio delle famiglie sono invece ormai impegnati esclusivamente solo sul problema della contraccezione e dell'aborto. Il centro di informazione sui diritti della donna intende attraverso questa trasmissione portare a conoscenza dei telespettatori la natura della sua attività. Attività che oggi si esplica essenzialmente in una tutela della donna a livello giuridico, sindacale e sociale. Il programma ha per titolo Donna Oggi. Il programma ha per titolo di chiunque 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 di chiunque. Grazie a tutti.